Balzo di contagi al Covid-19 in Abruzzo. I dati diffusi oggi dalla regione danno conto di 117 nuovi casi su 2.227 tamponi eseguiti, tra di essi anche un neonato di tre mesi. Si tratta di uno dei dati più alti di sempre in regione. Per vedere cifre analoghe bisogna tornare alla fine di marzo. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 23, di cui 13 in provincia di Teramo, 6 in provincia dell'Aquila, 3 nel Pescarese e 1 nel Chietino. È proprio la provincia di Teramo in questa fase a pagare il prezzo più pesante. Anche oggi spinge in alto il numero di contagi con 48 nuovi casi, seguita dall'Aquila 37, Pescara 22 e Chieti 10. C'è anche una nuova vittima, un uomo di 58 anni della provincia di Chieti. Al netto di un solo guarito in più rispetto a ieri, il numero degli attualmente positivi in Abruzzo è di 1.532 persone. Preoccupa l'aumento dei ricoveri. Sono 137 pazienti nei reparti Covid degli ospedali, 21 più di ieri, 11 in terapia intensiva, più 3. Gli altri 1.384 positivi sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. A Pineto due classi dell'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII da questa mattina sono state poste in quarantena cautelativa a causa della positività riscontrata in due alunni. Lo comunica il sindaco Robert Verrocchio attraverso un post su Facebook. Il primo cittadino spiega che, da protocollo, solo i bambini sono sottoposti alla quarantena e non i loro familiari, a meno di eventuali sintomi. Per gli studenti coinvolti è prevista la didattica a distanza. Nel comune di Pineto i casi attualmente accertati sono 13. A Giulianova altri due casi comunicati dal sindaco Ivan Costantini. Il totale dei contagi attuali sale così a 15.